salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo qui con glow stars oggi andiamo a fare delle missioni prima di tutto riscattiamo tutti i gettoni che ci sono prendiamoci i gettoni gratuiti dal negozio andiamo a vedere le missioni che abbiamo ragazzi a vincere allora a vincere abbiamo partito da vincere otto battaglie con colette oppure tocca dieci volte gioca ancora vincere cinque battaglie anche con lola ragazzi faremo la sopravvivenza solo perché abbiamo quasi sconfitto i 15 nemici in più facciamo colette non lo so facciamo lola ragazzi facciamo lola eccoci qua sopravvivenza single vediamo che cosa succede già questo che si voleva forte le power up ci ha fottuto anche la partita perché non poteva sparare all'altro seconda partita vediamo come andrà a finire va subito alle casse abbiamo scontri ovviamente sempre quello con il cannone vaffanculo va e ci ha fottuto di nuovo io non ci posso credere queste partite fanno cagare ragazzi abbiamo cominciato proprio è meglio che non lo dico tra l'altro mi dimentico anche di fare il gioco ancora quindi gg terza partita vediamo che cosa succede adesso io spero di vincere almeno una che era la scorsa nelle scorse partite abbiamo fatto il delirio adesso facciamo così cagare non ci credo grazie abbiamo tanti power up questa volta direi che potrebbe essere la partita giusta ecco qua ecco qua ecco qua ci siamo salvati ci siamo salvati attenzione attenzione perché spara ok l'abbiamo presa forse ci siamo ripresi forse questo è la partita giusta vediamo questo scontro diretto nasconde questo io non lo so eccolo l'ho visto eccolo e abbiamo vinto ragazzi senza problemi questa partita finalmente ovviamente abbiamo fatto i 15 nemici in sopravvivenza solo adesso ci resta da vincere una battaglia e facciamo il gioco ancora eccoci qua la quarta partita ragazzi vediamo che cosa succede adesso perché io voglio vincere un altro onestamente perché una va bene ma due già si comincia a ragionare anche perché poi perdiamo tutte le coppie e non abbiamo fatto niente ok lei ragazzi ci voleva uccidere vediamo che cosa succede adesso non lo so che cosa potrebbe succedere è più forte di noi si vede palesemente no 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 attenti ora io forse lo posso uccidere forse se non facciamo minchiate forse ma vabbè circondati non so dove devo scappare con questi io incredibile se ne sono andati i posti vediamo sicuro è qua sotto ma non so dove però oh mio dio e lo sapevo io lo sapevo però l'avevo quasi ucciso vabbè abbiamo vinto le 5 battaglie di sopravvivenza singolo adesso faremo un'altra cosa intanto abbiamo da riscattare i premi 640 monete e 60 cose di del bravo adesso abbiamo da fare sopravvivenza in due e facciamo questa sopravvivenza in due magari collaborando siamo più forti quinta partita vediamo adesso che cosa succede ok già a rompere una cassa non ci stiamo niente in due eh sì però se se ne va affanculo vediamo si è fatto già uccidere meglio che eravamo da soli vabbè due contro uno non è manco giusto però spero che non si faccia uccidere di nuovo perchè veramente è scandaloso dai 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 che lo possiamo uccidere il nostro amichetto qui veramente ma cosa è successo vabbè io non commento proprio eccoci qua in questa nuova partita ho perso il conto sarà la sesta non mi ricordo più ma va bene così prendiamoci tutte queste casse d'aria sei forte tu e possiamo prendere tutte queste casse ok ce l'abbiamo fatta questi che ci sparano addosso senza pietà proprio dobbiamo stare attenti dobbiamo stare attenti vabbè ci hanno fottuto i power siamo circondato da tutti siamo circondati da tutti ok è risuscitato il nostro compagno qui e lo sapevo io che poteva succedere una cosa del genere ma meno male che ci siamo salvate ucciso adesso tocca anche a te adesso tocca anche a te pensaci tu vabbè vabbè allora l'hai ucciso e ti sei fatto fottere i power ma cosa dobbiamo fare qui adesso? siamo proprio nei guai questo che brucia le piante anziché uccidere gli altri vabbè adesso siamo davvero nei guai ecco qua abbiamo perso anche questo vabbè persa no perché terzo posto alla fine abbiamo guadagnato una coppa anzi facciamo l'ultimo gioco ancora ragazzi visto che ce l'abbiamo se non lo facciamo mai più questa missione qui qua settima partita adesso vediamo che cosa succede in questa settima partita settima non... però sei conto in realtà sto contando un po' però mi sembra che sia giusto la settima partita sia questa vabbè se partiamo così però io almeno la cassa la dovevo prendere se no qua non facciamo assolutamente niente ok quello ha sei power up ma adesso non facciamo più niente perché ci ha fottuto tutti e quello si fa anche uccidere tra l'altro gli scontri così sono proprio da bastardi due contro uno non potevo che morire vabbè l'abbiamo persa questo ovviamente è andata male raga questo episodio finisce qui spero che vi sia piaciuto nonostante le partite di merda che abbiamo fatto ma ancora di merda hanno giocato i nostri compagni niente ci vediamo con il prossimo episodio ciao